Una vera piaga alla denuncia è lo strumento fondamentale per contrastare le truffe online e quelle agli anziani. I casi sono frequenti, va tenuta alta la guardia soprattutto durante le festività natalizie. Nelle ultime settimane le forze dell'ordine hanno raccolto diverse richieste di aiuto. Determinata l'attività del comando provinciale dei carabinieri di Campobasso, in questo caso in modo particolare della compagnia di Larino, tante persone cercano sul web le offerte più convenienti e molte incappano nella truffa. Tra le vittime la storia di un utente che ha cercato in rete e trovato, a un prezzo vantaggioso, un paio di bancali di pellet, ma il venditore era fasullo. Tra l'altro un truffatore già noto alle forze dell'ordine, denunciato così come la persona che ha invece ingannato un uomo di rotello per l'acquisto di gasolio, truffato per oltre 4.000 euro. Poi un caso che rientra in una tipologia sempre più frequente, la truffa dello speed. Un libero professionista del Basso Molise, dopo anni di lavoro, era in attesa di TFR e ultime due mensilità, circa 40.000 euro. In poco tempo alla tristissima scoperta, un soggetto aveva utilizzato una fotocopia del suo documento d'identità e aveva attivato una vera e propria identità digitale. Entrando nel sito IMSS aveva cambiato Liban, facendo confluire il denaro della vittima sul nuovo conto corrente. Ma i militari della compagnia di Larino, guidati dal comandante Cristian Petruzzella, lo hanno scoperto, anche per lui la pesante denuncia. Le truffe non sono solo online, spesso le fasce più deboli, quelle più colpite. Diversi i casi della truffa del campanello. La persona sfortunata è quasi sempre un anziano. Il malfattore riesce a sapere che la vittima vive da sola, raccoglie notizie sui familiari, si presenta alla porta o la contatta al telefono. La scusa è sempre quella, difficoltà economiche per incidenti causati da parenti dell'ignera vittima, che si spaventa e sborsa soldi. I carabinieri invitano a denunciare, hanno stilato un decalogo inserito anche sul sito dell'arma. Il primo tra i tanti passi, non aprire la porta agli sconosciuti. In caso di paure e dubbi, chiamare subito il 112.